Gentili telespettatori, buona giornata. A Roma salta la festa del papà a scuola. Inclusione! Chiaro? Il politicamente corretto colpisce ancora. Ma è davvero così corretto cancellare la festa del papà per i bambini? Allora non dovreste vendere neanche più le macchine perché c'è chi non le può comprare. No? Non dovreste vendere neanche più le scarpe, comprare le scarpe perché chi le scarpe non ce le ha. Allora cancelliamo la festa della mamma perché c'è chi non ha la mamma, cancelliamo la festa del papà perché c'è chi non ha il papà, non lo so. Aboliamo le piste da sci perché sono costose e c'è chi non ha i soldi per andare a sciare. Capite la deriva di questo politicamente corretto? È una sciagura dei nostri tempi. E' una vera e propria censura. Una vera e propria censura in nome dell'inclusione. Quindi tu, per esempio, una scuola cancella la festa del papà perché magari in una classe c'è qualcuno che può non avere il papà. E allora cancelli la festa del papà. Secondo voi è normale cancellare la festa del papà perché può essere che qualche bambino nella scuola non abbia il papà? E quindi dobbiamo essere inclusivi? Nessuno festeggi la festa del papà perché può essere che c'è qualcuno che non ce l'ha il papà. Secondo me non è giusto, non è giusto, non è corretto. Questo non è politicamente corretto. È politicamente una follia. Ma di queste cose le continuiamo a sentire tutti i giorni, no? La scuola che chiude è il 10 di aprile per la festa del Ramadan. Si sono inventati una nuova festività a Pioltello. Siamo nella scuola comunale per l'infanzia Adanegri, nell'istituto comprensivo Via Latina 303. Molto comprensivo. Comunque questa scuola ha deciso di non celebrare la festa del papà. Critiche, dibattiti, polemiche. Il motivo è l'inclusione. Seguendo le linee guida del comune di sinistra di Roma, guidato dal sindaco chitarrista Gualtieri. Ferma protesta, dicono, fermo restando alla possibilità di studiare situazioni personalizzate per le classi in cui siano presenti i bambini con alle spalle situazioni familiari particolari, ritengo assurdo e discriminante che si debba cancellare una tra le ricorrenze più sentite nella nostra tradizione, annullando le dichiarazioni riportate da Il Giornale la figura del padre e della madre in nome del politicamente. corretto. Questo episodio ricorda quelle che ci sono, per esempio, durante il periodo di Natale, quando alcune scuole hanno evitato ogni forma di celebrazione religiosa per non urtare la sensibilità di bambini di diverse fedi rispetto a quella cristiana. A Milano, negli ultimi giorni, una scuola, come vi dicevo, ha deciso di chiudere per il Ramadan. Nonostante la maggioranza degli studenti non sia di fede islamica. Polemiche anche su quello. Sapete che io mi reputo discretamente soddisfatto di essere nato nel 1974, di essere andato a scuola nei primi anni Ottanta. Io ricordo... Io non sono uno che ha una gran memoria, purtroppo. Non ci posso fare niente. Non ho una gran memoria. Se io avessi una grande memoria sarei un'enciclopedia. Con tutti i lavori e le cose che ho fatto, se io solo mi ricordassi la metà delle cose che si ricordano gli altri, sarei un'enciclopedia ambulante. Alcune cose le ricordo però lo stesso. Ricordo la scuola Nicotera ad Arona, questa scuola antica, classi con i soffitti molto alti, classi enormi, finestroni giganti. La grande cattedra della maestra con alle spalle è un grande crocifisso, che il crocifisso l'ho visto in tutte le classi, dalla prima elementare fino all'ultimo giorno delle superiori, ho visto il crocifisso. All'università poi non c'era più. Il crocifisso, ho visto sempre a Natale l'albero di Natale, la casetta del presepe, il bue, l'asinello, il Gesù bambino che arrivava il 24, il calendario dell'Avvento. Sapete che oggi l'ho trovato, siamo a marzo, ma ho trovato un supermercato che stava svendendo il calendario dell'Avvento che non era riuscito a venderlo a Natale. Lo utilizzerò per il prossimo anno per i miei figli. Sapete qual è il calendario dell'Avvento? Dove ci sono le finestrelle, apri ogni giorno della settimana fino al 24 che ha due porticine, dentro di solito sono i cioccolatini. Calendario dell'Avvento, ricordo della mia infanzia, che ho voluto ricomprare. E poi io ricordo bene la festa della donna, la mimosa. Oggi la festa della donna non si può fare neanche più, perché che fai? La festa della donna è che se non c'è la festa dell'uomo non ci deve essere neanche la festa della donna, che è la donna a parte che ha la sua festa. Quindi ricordo le mimose, la festa della donna, oggi è una cosa molto in disuso, perché per la parità la festa della donna non ci deve essere più. La festa, mi ricordo la festa della mamma, e a scuola facevi i lavoretti, costruivi proprio le cose. la festa del papà, mi ricordo, il regalino al papà. Poi ricordo anche che prima di Natale si facevano dei lavoretti da portare a casa, il centro tavola di legno, con sopra delle candele. Insomma, io ho dei ricordi, sono molto lontani questi ricordi, però sono contento di poter avere questi ricordi. I miei figli ancora stanno facendo, io li ho iscritti, una scuola religiosa, dove ancora ancora imbarba al politicamente corretto fanno tutte queste cose. Per fortuna. Forse saranno gli ultimi che vivranno l'albero, il presepe, il crocifisso, la festa del papà, la festa della mamma, perché stiamo andando incontro a delle ere proprio dove dobbiamo essere tutti uguali, come dei robot. Tutti uguali, senza nessuna differenza. Che brutto mondo, quello di oggi è quello che si prospetta per il futuro. Grazie a tutti e arrivederci a presto.